Che cosa significa premiare una giovanissima corregionale che a soli 14 anni ha vinto praticamente quello che c'era da vincere? Valentina Procaccini, oggi a Montesilvano per celebrare una giornata particolare. Lo chiediamo proprio al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Valentina ho l'orgoglio di tutto l'Abruzzo e anche della provincia di Pescara perché è andata a Montesilvano, quindi è una mia concittadina. Io sono certo che Valentina tra qualche anno sarà in una piscina internazionale, probabilmente in una gara olimpica, non so di quale distanza tra quelle più nobili. Io sarò in televisione, magari mi sarò alzato alle due di notte per tifarla e sarò lì a battere le mani e a pensare a questa giornata in cui è evidente a tutti che lei è un talento eccezionale che va solo lasciato libero, tranquillo, di divertirsi perché oltre che essere un grandissimo talento sportivo, come è facile vedere, è anche una bellissima ragazza, molto simpatica, molto educata e quindi va lasciata semplicemente andare e darà tante soddisfazioni al suo paese. Valentina Procaccini, è più emozionante una gara di nuoto o una conferenza stampa dove hanno preso parte le maggiori autorità del settore? Sono due cose diverse diciamo perché le gare sono, è ovvio che un po' hai quell'ansietta però dopo quando l'hai fatta è finita, mentre qui è emozionante e sono onorata. Che cosa rappresenta per te il nuoto, dici la verità? Il nuoto mi piace e anche perché mi stanno tante tante soddisfazioni belle e spero di arrivare molto lontano. Il sogno è eguagliare le imprese della Pellegrini? Non è paragonabile la Pellegrini a me perché comunque sono all'inizio, non ho fatto ancora praticamente nulla e spero comunque di arrivare lontano come ha fatto lei, però non mi paragono alla Pellegrini. I prossimi appuntamenti agonistici che ti vedranno protagonista quali saranno? Il prossimo mese c'è la Coppa Comen a Cipro che sono degli europei giovanili. Intanto questi premi, questi riconoscimenti a chi li dedichi? Li dedico alla mia famiglia e grazie anche al Circolo Cano Tiraniene che mi aiuta ad allenarmi e a fare tante belle cose. Tanti auguri! Grazie! Grazie!